Extatica riprende i lavori e si discuterà domani, qui proprio a Fano, in Sala Verdi, di un testo importante del professor Ivano Dionigi, che si intitola Osa Sapere, uscito per Solferino. Abbiamo scelto di presentare questo testo perché tocca un problema che a noi sta molto a cuore come associazione culturale. Il discorso è cercare di unire filosofia a filologia, vale a dire il nostro presente ricco di complessità. E noi possiamo cercare di entrare in queste complessità, come peraltro Dionigi sottolinea per esempio la questione politica, la questione della tecnica, se solo se torniamo al monico cantiano, vasista aufklärung, cioè l'illuminismo come coraggio di sapere, autonomia della ragione, e torniamo a indagare a fondo i problemi che ci circondano. Allora questo è un po' il tentativo della filosofia, che non è, i nostri umanisti valla, ce l'insegnano bene, mera sofia, non è un mero sapere. È un cercare di approssimarsi a questo sapere, una ricerca continua. Potremmo anche dire proprio un sapere della ricerca e non solo un amore per il sapere. Però dicevo, in questo è essenziale anche la filologia, perché se non torniamo all'idea che il linguaggio è già un strumento che contiene pensiero e quindi la parola è già parlata, non riusciamo a capire tutto quello che ci circonda. Allora, quale sarà un po' il filo? Dunque, allora, uno degli aspetti fondamentali messi in luce del libro del professor Ivano Dionigi è senz'altro il problema del linguaggio. Lui dice, siamo di fronte ad un appiattimento del linguaggio. Cosa significa? Significa che, d'altra parte, il linguaggio si sta svuotando del suo contenuto, sta diventando un linguaggio che non è più teso a comprendere il mondo, penetrare nell'essenza delle cose, ma un linguaggio teso a colpire, simile a quello della pubblicità, a catturare. Ma questo cosa comporta a livello umano, a livello di relazione con gli altri e con se stessi? Che un elemento è lo specchio dell'altro, cioè se parliamo male, pensiamo male, se pensiamo male, parliamo male. E a questo punto il problema si fa evidente, perché se il linguaggio si appiattisce, allora si appiattisce lo strumento con cui noi analizziamo il mondo e analizziamo noi stessi.